Bene, siete pronti per questa diretta? Vediamo se ho il... eccoci qua, 4G. Allora, vediamo subito che cosa è successo su questa diretta, perché è finalmente arrivato il tempo del decretone di, diciamo, come lo chiamano, rilancio, quello di aprile, che è poi arrivato a maggio, ed è il decretone di rilancio. Allora, se posso usare una metafora, diciamo, da Scarface, lo ricordate? Scarface è quello che spara col mitragliatore, fantastico, il film del parvenu che diventa un grandissimo spacciatore di cocaina e che muore lì fatto di cocaina come una zucchina. Bene, ecco, se vi ricordate Scarface, l'idea è questa, un decreto che ti dà, come la cocaina, una piccola bottarella, no? Come lui che si sentiva fico, ballava con la moglie del capo e poi se la sposa pure. All'inizio ti dà una bottarella, alla fine muori, 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 chiuso. Il problema è che a morire non è soltanto questo governo, oggi ci sono un sacco di indiscrezioni che fanno capire come questo governo sia dei problemi, ma a morire siamo noi, perché all'inizio ci ha dato una bottarella. I giornali per la verità oggi non sono più i giornali unici del decreto, fatemi dire che sia Rizzo, sia Cassese, quindi sia Repubblica, sia il Corriere della Sera, sia Le Mance come titolo del giornale, insomma stanno iniziando a capire il bluff di questo spacciatore di minchiate. Ma vi faccio un esempio, guardate, che ve lo portate a casa, semplice, semplice, semplice. Allora, questi geni, questi geni hanno previsto 120 milioni di euro di aiuti per comprare bici e monopattini. Io sono felicissimo, abito nel centro di Milano, nel centro di Roma, utilizzerò questi soldi per comprare bici e monopattini. Ma dovete sapere che per l'auto, che vuol dire il 20% della filiera italiana, in cui ad aprile hanno venduto 4.700 auto rispetto a 120.000, ci vivono il nostro indotto, i nostri concessionari, i nostri venditori, cioè ci vive il mondo dietro la filiera dell'auto, quanto hanno dato per l'auto? 100 milioni. Peraltro quella elettrica è un'altra grandissima minchiata, no? Non ci sono le colonnine, diamo l'auto elettrica, diamo le bici elettriche. Cioè, per bici e monopattini il decreto prevede 120 milioni, per l'auto filiera 20% del PIL italiano, quanto hanno dato? 100 milioni. Per di più per l'elettrica, che si può comprare, forse Conte, con i suoi 15.000 euro al mese, se lo può comprare Bonafede con i suoi 15.000 euro al mese, se lo può comprare Arcuri con i suoi 800.000 euro che gli ha tagliato, mi sembra, Renzi, loro si possono comprare l'auto elettrica. Nel resto del mondo, cioè quello normale, tu non hai fatto l'unica cosa semplice che abbiamo fatto per anni, che si chiama Rottamazione, perché, ragazzi, l'altra cosa che è pazzesca, lo scrive bene il Sole 24 Ore, questo decreto da 55 miliardi è un decreto completamente in deficit. E a differenza di tutte le finanziarie, della retorica bolsa dell'avvocato Foggiano e di tutte le quattro grazielle accanto a lui, è la prima volta che facciamo una finanziaria senza che ci rompa le balle l'Europa su come farla, dove trovare le coperture, dove trovare le tasse, cioè sono solo spese, 55 miliardi che pagheremo, eh, pagheremo. Quindi se queste spese le buttiamo nel cesso per i monopattini elettrici e non per le cose serie, cioè la filiera dell'auto che dà da lavorare a milioni di persone, noi siamo dei pazzi drogati. E oggi, come, no, un po' pippati, facciamo 55 miliardi. Minchiate! Sapete questo bonus, il bonus che io avevo tanto esaltato, l'eco bonus, il decreto sulle ristrutturazioni edilizie, devi fare, ti hanno messo talmente tanti paletti che loro stessi stanno, sanno che sarà una cagata pazzesca. Due miliardi hanno messo per il bonus, l'eco bonus, perché lo faranno gli ACP, i condomini, i grandi condomini, insomma, è rispetto a 30 miliardi che valgono ristrutturazioni edilizie ogni anno e che attivano migliaia di lavori, questo vale 2 miliardi, meglio che un calcio nel sedere, ma comunque, insomma, meglio che gli incentivi ai monopattini. Ma si tratta non di quella rivoluzione shock che ce l'ha promesso Fraccaro, uno sputino che è stato dato su 55 miliardi, 2 miliardi. Molti di voi si lamentano sull'IRAP, perché dicono, l'IRAP che cosa ci pagano? Il saldo del 2019 e l'acconto del 2020, però su questo hanno messo 4 miliardi. Ragazzi, se noi per primi dobbiamo andare a criticare, guardando non le minuzie, ma gli errori, lì almeno è una cosa semplice. L'IRAP, se hai un'azienda fino a 5 milioni, non la paghi e non rompiamo le balle fino a 250 milioni, non mi ricordo quanto è grande. Insomma, non pagheremo l'IRAP, daranno una mano alle aziende, chi se ne frega se c'è un'ingiustizia. Ogni riduzione fiscale ha in sé un'ingiustizia, perché c'è quello che gli serve di più e quello che gli serve di meno. Ma è semplice, non è complicata. Quindi è l'unica cosa che può funzionare. Riduzioni fiscali. E quando sento tanti di voi che si lamentano, ma l'IRAP la potevano fare meglio. Sì, la faranno meglio, la potranno... Anche il mio amico Zanetti dice su Eutecne, ci spiega bene perché dovrebbe essere fatta meglio. In realtà, però, questi 4 miliardi sono veri. Non sono 100 milioni per le auto. 100 milioni per le auto elettriche a me mi fa impazzire. Questi deficienti pensano di vivere nel mondo delle favole, in cui facciamo i cappotti energetici per le case, le auto elettriche, i monopattini elettrici, le corsie preferenziali per i pedoni. Non hanno capito che stiamo morendo di fame. Ci sono altre cose decenti. Per esempio, hanno deciso, fino a ieri ci dicevano che la cassa integrazione era tutto apposto. Hanno capito che hanno fatto una cagata pazzesca sulla cassa integrazione in deroga. E hanno fatto delle procedure semplificate, però valgono per il futuro. Quindi cosa succede? Che noi avremo la cassa integrazione per cui per il futuro, quando la dovrai chiedere, avrai forse una procedura semplificata. Che tanto semplificata non è perché il 40% lo anticipa l'Inps, il 60% le regioni. Un casichino della madonna. Ogni richiesta comunque va ai 16 euro di bollo. Questi sono dei pazzi. Questi sono scarface. Non si rendono più conto. Stanno lì sul balcone col mitragliatore che sparano a tutti quanti gli italiani che alla fine vincono. Perché per quanto si sono fatti, alla fine dobbiamo vincere. Non possiamo pensare che questi ancora ragionano. Sanità, come la risolviamo? Assunzioni. Università, come la risolviamo? Assunzioni. Turismo. Questi si sono inventati sul mondo. Un altro insieme all'auto, un altro dei comparti fondamentali di questo paese è il turismo. Beh, cosa gli danno? Gli danno questa minchiata del credito di imposta di 500 euro e devi avere l'ISE sotto 40.000. Quindi questi non capiscono che le persone che hanno un'ISE sotto 40.000 stanno a casa, non vanno a fare i turisti. Qua ci vorrebbero gli incentivi per le imprese, non le mancette per andare nei bagni che oggi col distanziamento costeranno. Ma con 400 euro non ti paghi manco una birra. Chiaro? Invece no. Questi danno 500 euro per quello, 300 euro per quello, il monopattino, le cose. Tutte robe che non servono a nulla. L'unica cosa che vi ho detto può servire sono il fondo perduto per le imprese, ridotto, ma comunque c'è, ammortizzatori sociali. Ma sugli ammortizzatori sociali, anche qui, dice il governo, abbiamo dato 25,6 miliardi di euro per i ammortizzatori sociali. Bene! Ma se tu dai 25 miliardi per gli ammortizzatori sociali, tra CIG e bonus, quanto possiamo durare a dare 25 miliardi al mese? Lo capisce anche un bambino! Se tu non fai riprendere le imprese, il turismo, l'auto, la meccanica, l'edilizia, dando incentivi a loro, col cavolo che possiamo continuare a fare mese su mese, 25 miliardi al mese, voi date un mese, fate i fichi, vi siete date questa bottarella, avete risolto i problemi? No! Non avete risolto nulla! Avete aggravato, ci avete reso dei tossicodipendenti dalla cassa integrazione, che è esattamente l'errore che dobbiamo fare. E abbiamo fatto. Beh, Cassese dice l'intervento risarcitorio, quindi una follia. Poi Repubblica dice congela lo scontro del governo, un'operazione da 55 miliardi, chi se ne frega che congela? L'importante è fare qualcosa di decente, rizzo, tanti soldi, poco fumo, scritta i nostrogoto, zero investimenti, credito dell'imposta sugli affitti. Dice, arriveranno quando ai negozianti che non hanno più un euro per pagare le imposte. Insomma, Financo, diciamo, Rizzo, che non è certamente considerato un giornalista ostile a questo governo, dice ma che cacchio avete fatto? Fantastico il pezzo, ve lo consiglio, di Huerta De Soto, grandissimo economista spagnolo, che oggi e più tardi voglio mettere anche sul mio sito, Stato e Salvatore, solo un'illusione. Cioè il principio che sia lo Stato a salvarci è soltanto un'illusione. Lo Stato, semmai, oggi avrebbe dovuto, dopo aver incasinato la vita agli italiani e alle imprese italiane, con il lockdown più o meno necessario, e soprattutto nelle nostre formule assolutamente assurdo, avrebbe dovuto ristorarli per cercare di farli ripartire alla grande. Qua non fanno ripartire nulla, non serve a niente quello che stanno facendo in questo momento. Abbiamo buttato nel cesso 55 miliardi. Diciamo, dei 55 ne abbiamo burrati 40 nel cesso. E poi, fantastica, intervista di Arcuri. Arcuri, purtroppo, in un paese normale, gli avrebbero dovuto, senti Arcuri, ciao caro. Capezzone oggi si accorge sulla verità che questa finanziaria, che cosa ha dato? Ha dato più poteri a Invitalia che amministrate da Arcuri. Cioè, Arcuri si deve occupare del risanamento di Bagnoli, 491 milioni, ciao core. E poi dovrebbe entrare con Invitalia nelle aziende. Voi capite che cosa vuol dire Arcuri nelle aziende? Uno che non riesce a trovare le mascherine e che spiega oggi, invece di chiedere scusa, dice che è colpa dei ricchi se le mascherine non sono in giro. Questo è Arcuri, e noi questo Arcuri ce lo troviamo ancora come commissario straordinario in un paese normale, gli avrebbero dato il ben servito da mesi. Noi non solo ce lo troviamo là, ma la finanziaria gli dà più poteri. E sapete cosa dice oggi? Beh, insomma, noi abbiamo dato a tante imprese italiane la possibilità di farle queste mascherine. Siamo a inizio maggio. Arcuri! Inizio maggio! Uno, due, tre, quattordici! Allora, Arcuri, mettiamoci insieme. Due più due, quattro, quattro più quattro, otto, sei più sei, dodici, quattordici. Non è inizio maggio! Ci arrivi? Ci arriviamo, Arcuri? No, perché siccome questo è il modo di ragionare di Arcuri, l'arroganza di Arcuri è che se hai sbagliato può succedere a tutti. Dici, scusatemi, ho sbagliato, ho fatto una cappellata. Può succedere, sapete quante ne faccio io? Figuratevi un po' voi che non sono Arcuri e che non prendo i soldi di Arcuri. Però, a differenza di Arcuri, io non sono pagato dai contribuenti. Arcuri sì, quindi, insomma, un po' più di umiltà nei confronti dei ricchi, come li definisce lui, che sono quelli che hanno reso ricco lui. Mi ricordo il suo stipendio di 800.000 euro. Vabbè, andiamo avanti. Distanziamento. Questa è l'altra cosa. Cari amici, io lo so che voi non la pensate come me, ma il distanziamento, se noi non ce lo togliamo dalla testa, se noi pensiamo di continuare a vivere col distanziamento, noi siamo morti. Oggi è straordinario un pezzo di Pierluigi Battista sul Corriere della Sera che ci racconta sul Corriere della Sera, che cosa, cavolo, vuol dire il distanziamento, perché dobbiamo avere il distanziamento di 4 metri nelle spiagge, dobbiamo avere il distanziamento di 2 metri nei ristoranti, di 1 metro e 20 nel bar, di 20 centimetri nei trasporti pubblici, ma insomma, dovrebbe esserci una scienza. L'unico distanziamento che abbiamo è quello del caos, sostiene Battista. Il vero problema è che, mentre noi stiamo qua a fare il distanziamento, il capo di Harris Bar, cioè uno dei posti storici dell'Italia, del Made in Italy, che l'ha aperto grazie suo figlio in tutto il mondo, cioè il signor Cipriani, ha detto, sapete che c'è di nuovo? Io non apro! Secondo voi è un problema per il signor Cipriani? Cipriani è un signore anziano che ha fatto un sacco di soldi, c'è una grande vita alle spalle e ha un grande futuro davanti a sé. Il problema è che se non apre Cipriani, a perdere c'è l'Italia, a perdere ci sono i lavoratori, a perdere ci non sono le casse integrazioni di Conte, Patuarelli e Fraccaro, perché se chiude Cipriani chiude un pezzo dell'Italia, perché a Venezia ci andranno loro con i loro motoscafi pagati dai contribuenti, ma se noi dobbiamo distanziarci non ci andiamo a Venezia, ma questa cosa spiegategliela da alcuni che oggi si spiega che le cose vanno benissimo. Nel frattempo facciamo questa sanatoria sui migranti con un compromesso, la Bella Nova piange. Io vi voglio dire una cosa, a me la Bella Nova è un ministro che piace, un ministro dell'agricoltura tosto, che secondo me vuole bene all'agricoltura, ma su questa cosa delle regolazioni ha fatto una minchiata, in un momento di depressione economica come questa, rendere questa sanatoria che è fatta, dice Provenzano, finalmente una grande sanatoria, oggi ci spiega tutti quelli che sono contro il sanatorio, sono dei destri beceri, caro Provenzano, cara Bella Nova, raccontateci che avete fatto una sanatoria, ma non raccontateci balle, Prandini, il capo della Col di Retti, roba di sinistra, e Gian Santi, il capo della confagricoltura, roba diciamo di centrodestra, dicono entrambi che sai quanti lavori entreranno nell'agricoltura grazie a questa minchiata della sanatoria? Mille, mille e cinquecento persone, mille, mille e cinque, lo dicono oggi sul sole 24 ore, non ci saranno i tempi, sarà tutto marcito, quello che ci voleva non era questa stronzata della sanatoria, si doveva fare quello che hanno fatto i tedeschi, quello che hanno fatto i francesi, i corridoi verdi, far arrivare in Italia rumeni e polacchi, che sono quelli che già da anni conoscono le nostre terre, quello che serviva erano i voucher, cioè pagare le persone con semplicità, non questa stronzata che prima che verrà realizzata sarà a luglio, agosto, quando sarà tutto marcio, e ve lo dicono gli agricoltori, che le conoscono queste cose, stanno un po' meno a Palazzo Chigi, stanno un po' più sui campi, forse zappano la terra, invece che zappare, come fate voi, con settecento pagine, decreti che poi di efficacia hanno nulla. Sì, sono molto arrabbiato, perché abbiamo speso cinquantacinque miliardi nostri, i vostri figli, i miei figli, i ragazzi che hanno oggi diciotto anni, pagheranno cinquantacinque miliardi per queste stronzate, per queste robe che non serviranno a tirare sull'Italia. Poi io penso che noi ci teneremo su perché siamo fichi, perché siamo pazzeschi, ma aver buttato per la peggiore classe dirigente, nel peggior crisi che ha avuto l'Italia, noi siamo governati da Casalino, da Conte, da Arcuri, noi siamo governati da questi e a questi gli abbiamo permesso di spendere cinquantacinque miliardi, sapete che penso? Che ragione Pagliarini era meglio che l'Europa non ce li desse questi cinquantacinque miliardi, almeno avremmo avuto il modo di non aumentare il debito per fare queste stronzate che faremo. Di questi cinquantacinque miliardi arriveranno alle imprese che saranno più o meno utili, una decina, tutto il resto è tutto rivolo che non servirà a nulla. Ricordatevelo, la cassa integrazione non cambia la vita agli italiani, cambia un mese agli italiani, il problema è che i mesi che gli italiani devono vivere davanti a sé sono numerosi e non sono un mese. Andiamo avanti. L'altra cosa fantastica, mentre noi siamo qua che cazzeggiamo quei distanziamenti con Arcuri che ci spiega che metà e inizio maggio è il 14 maggio, nel frattempo gli altri stanno aprendo tutto, tant'è che fanno gli accordi in Germania con tutti gli altri paesi per gli scambi turistici e l'Italia è fuori. La stessa cosa è la Svizzera, il nostro confinante è la Svizzera. Tu puoi entrare in Svizzera dall'Austria, dalla Francia, da ovunque, ma non dall'Italia. Ma è ovvio che non puoi entrare dall'Italia, perché qua noi siamo ancora che non possiamo andare da una regione all'altra e la Svizzera dice, ma perché dobbiamo fare entrare gli italiani in Svizzera o gli svizzeri in Italia se non possono andare da una regione all'altra? Toc toc! Poi chi li paga? Gli alberghi, i ristoranti, i baristi, i servizi, le personal shopper, quelli che si occupano dei matrimoni? Chi li paga le persone che non sono dentro i vostri codici della minchia teco? Cioè le persone che lavorano di tutto il turismo, di tutto l'indotto che arriva? Abbiamo già perso 30 milioni di turisti, leggo oggi, sul Corriere della Sera. Complimenti a questi geni, alla De Luca, quell'altro, il sindaco, quell'altro genio. Qual è l'altro sindaco che dice? Quello di Forte De Marmi. Potete giocare a tennis, ma dovete essere residenti. Complimenti. Bravo sindaco di Forte De Marmi. Chi cazzo te lo paga lo stipendio? I tuoi residenti? O tre mesi all'anno di ville, di persone che vengono là di tutto il mondo, che pagano il tuo stipendio e di quella città che altrimenti ritornerebbe a essere un posticino dove ci si vanno in tanti. Potete giocare a tennis a Forte De Marmi. A tennis si può giocare a Forte De Marmi. Basta che siano residenti quelli che giocano a tennis e che ci sia una sanificazione delle poltrone dopo aver giocato a tennis. Io dico questi sono dei pazzi. Sono dei pazzi. Nel frattempo ci prezziamo di Silvia. Io quello che pensavo di Silvia ve l'ho detto già ieri nel video che potete vedere sul mio sito. Ragazzi, una vittima, non esageriamo. Questi qui che la mostrano con la veste islamica sono dei delinquenti, ovviamente, perché aiutano la causa islamica. Ma che c'entra Silvia su tutto questo? Una poveraccia che è stata rapita per un sacco di tempo. Ciao Barbara, ciao Stefano. Le cartelle esattoriali poi le vedremo. L'ultima questione, guardate, a me mi impressiona questa cosa dei magistrati. Perché oggi c'è tutta la verità che riporta tutti gli sms, tutte le trame del CSM, come si chiama, di Palamara. E poi il siparietto incredibile che c'è stato ieri al CSM tra Davigo, il mitico Davigo e Di Matteo. Il mitico Di Matteo. Ve le ricordate le storie di Davigo e Di Matteo? Beh, insomma, Davigo dice querela il riformista. Perché il riformista, cioè Sanzonetti, si era permesso di dire che Di Matteo era litigato su Buonafede istigato da Davigo. Davigo è intoccabile! Lui può mettere in galera tutti, può dire che tutti gli italiani sono soltanto dei colpevoli, a cui non è stato dimostrato il fatto di essere colpevoli, ma lui se un po' lo tocchi ti... Io per carità non voglio toccare Davigo. È stato querelato il riformista. Mi toglie anche le mutande se querelasse me. Nel frattempo Di Matteo se la prende con Davigo, due membri del CSM. Mentre il CSM non si occupa di Di Matteo e di quello che ha detto sul Ministro della Giustizia e tutto è stato lasciato passare, mentre litigano due membri del CSM perché Davigo querela il riformista. Di Matteo dice che Davigo querelando il riformista ha detto che lui ha fatto un bisticcio con il Ministro della Giustizia e Di Matteo che è intoccabile dice ma quale bisticci? Ma mica c'è stato uno screzzo con il Ministro della Giustizia? Io ho detto i fatti. Ecco, mentre tutto questo avviene, leggo con la Milella, la Milella, la grandissima cronista giudiziaria, l'ha scritto ieri su Repubblica con un'altra giornalista, in due ci si sono messe, hanno spiegato che il CSM, lo stesso di Davigo, lo stesso di Di Matteo, lo stesso di Palamara, sarebbe contro la nomina della matone garante per l'infanzia. Beh, e sapete qual è il motivo per il quale sarebbe contraria? E vogliono una grillina mica loro. Sapete per quale motivo sarebbe contraria la matone? Perché è amica della Casellati, cioè il Presidente del Senato che è stato membro del CSM. Questo è il problema della matone. Poi dopo io voglio dire, vado a vedere chi cazzo è la matone, perché uno può dire, beh, la matone cosa ha fatto nella vita? Ha fatto l'amica della Casellati. No, no. Questa dovrebbe diventare garante dell'infanzia. Il CSM sarebbe contrario già prima ancora delle candidature. Uno va su Wikipedia e dice, ma chi è l'amatone? Va su Google, chi è l'amatone? 17 anni, PM per minorile. È andata in tutti gli organismi internazionali che si occupano di ragazzini. È stata consulente di tutti quanti i Presidenti del Consiglio. È stato nelle commissioni infanzia, nelle commissioni famiglie. Però il CSM che cosa fa? Fa le sue piccole ripicchette attraverso i giornali per uccidere il magistrato, uccidere dal punto di vista metaforico, il magistrato che non le piace. Quindi il CSM da chi è fatto da Davigo e Di Matteo che litigano là, belli, chi è più puro l'altro. E gli altri intanto, mentre ci sono le piccole nomine da fare, tra cui il garante per l'infanzia, cosa fanno? Cercano di screditare via giornali, evidentemente, i magistrati che non fanno parte di questa cricca. Questa è la nostra magistratura, quella per cui Palamara e Compagnia Cantante potevano fare le loro cose, per cui Di Matteo può accusare il Ministro di essere in combutta con i delinquenti che volevano uscire dal carcere, Davigo può queredare i giornali perché si permettono di criticare e la Matone può essere crocifissa perché è amica del Presidente del Senato, la seconda carica del Paese. Io non so se lo sia amica o quanto lo sia amica, ma chi se ne frega rispetto al suo curriculum o no. Noi ci vediamo, come sempre, sul sito nicolaporro.it e mi raccomando, buona zuppa a tutti quanti voi. Grazie a tutti.